buongiorno a tutti sono Alessandro di 4V d'Italia oggi siamo qui per presentare una nostra creazione una Wrangler JL quattro porte nel quale abbiamo installato una serie di accessori praticamente infiniti direi di iniziare dall'anteriore anche per dare una sequenza logica alle cose questo è un paraurti ARB in acceio 5 mm un paraurti vero heavy duty che è stato ovviamente omologato sulla vettura sul quale abbiamo installato una barra led molto potente della Rock Country sempre guardando il frontale si notano alcuni particolari come la protezione per i fanali le griglie per i fanali anteriori un bug deflector delle chiusure del cofano con la chiave poi magari andiamo più verso il basso che c'è una parte un pochino più tecnica in questo caso vediamo dei semi assi sul ponte anteriori RCV con il giunto omocinetico una serie di componenti della tiranteria di sterzo rinforzati biellette piuttosto che panard regolabile piuttosto che un ammortizzatore di sterzo della Falcon e un altro particolare che si può notare sono gli ammortizzatori gli ammortizzatori sono veramente particolari sono dei Falcon con serbatoio separato e hanno un controllo delle tarature tramite app una cosa veramente particolare tutto l'assetto è stato studiato in maniera tale da ripristinare le geometrie originali è una cosa la quale siamo molto molto attenti quindi come dicevo panard regolabili puntoni e tutto quello che serve per per far sì che l'esperienza di guida sia migliore di quella originale sulla fiancata notiamo un sacco di altre cose questi faretti per esempio che sono un'altra chicca un'antenna diversa da quella originale molto più bellina queste finiture nere della bushwalker coperture per le cerniere su tutte cose abbastanza decorative una cosa molto bella sono queste pedane elettriche che si aprono e si chiudono quando si si apre si chiude la portiera sempre proseguendo cerchi cerchi pro comp pneumatici da 35 pollici e sul posteriore che adesso andiamo a vedere c'è il fratello del paraguote anteriore sempre un paraguote ARB anch'esso ovviamente omologato come del resto tutta la preparazione è stata omologata qui abbiamo fatto una scelta che non tutti condividono che è stata quella di rimuovere la ruota di scorta perché a mio giudizio è totalmente inutile in autostrada non non si può più cambiare una gomma se non cambiano cambiando cambiando chiamando il carattrezzi è una gomma che rimane lì sostanzialmente ad invecchiare appesantisce il portellone e diminuisce la visibilità per alcuni se la jeep non ha la gomma di scorta non è una jeep per noi una scelta molto azzeccata il portellone si apre con molta più facilità la jeep è più corta più facile da parcheggiare e secondo me è molto molto gradevole non abbiamo perso ovviamente la retrocamera sempre sul posteriore si nota uno scarico doppio questa jeep ha una motorizzazione 2000 turbo benzina poi cosa posso farvi notare le griglie per la protezione dei fari posteriori che sono della stessa serie di quelli anteriori sempre proseguendo vediamo per esempio dei parafanghi che non sono come gli originali quindi questi sono i flat fender della della raggio drige specifici per questo modello abbiamo anche installato una barra led molto molto bella della quadrate che è una barra led interna che offre una serie di vantaggi oltre ad essere molto potente all'enorme vantaggio di non creare turbolenza e non fare rumore come tutte le barra led che si montano su parabrezza inoltre molto discrete anche con le forze dell'ordine crea sicuramente meno problemi sempre di quadrate che stavo dimenticando prima abbiamo installato anche una protezione molto molto bella della tiranteria di sterzo quadrate che è uno dei nostri partner da ormai da tantissimi anni e quindi vendiamo moltissimi i loro prodotti a marchio tutti gli accessori che hai visto installati su questa jeep sono in vendita sul nostro sito che è 4vditalia.com e la nostra officina è a disposizione per l'installazione del tutto e l'omologazione se ti è piaciuto questo video ricordati di iscriverti al nostro canale a voi costa poco per noi è importantissimo grazie a tutti